Ciao community, due semplici parole per spiegare che questi sono dei video allo scopo di semplice intrattenimento, sono collettivi generali che possono incastrarsi in tutto o anche in parte alla vostra situazione, ma che non possono mai sostituire una lettura personale fatta con nomi e date di nascita e con domande specifiche, alla quale potete accedere chiedendo informazioni al numero whatsapp 331 2717 482 o all'indirizzo di posta elettronica oracolodimorgana.com I video sono validi dal momento in cui se ne prende visione e di conseguenza sono sempre attendibili. Se vi arrivano è perché in quel momento avete bisogno di quel messaggio che l'universo vi sta mandando. Per letture personali, rituali di purificazione, liberazione da invidie, gelosia e malocchio, per attivazione sulla vostra persona di rune magiche, amore, fortuna, denaro, lavoro e per avere una stampa digitale personalizzata fate riferimento ai contatti sopra citati e che potete trovare sotto ogni video. Vi ringrazio per l'attenzione e buona visione. Benvenuti in questo nuovo video, oggi abbiamo due varianti, la variante con la chiave con il quadrifoglio verde e la variante con la chiave con la farfalla azzurra. Potete scegliere tutte e due le varianti nel senso che ne potete scegliere una principale e ascoltare anche l'altra perché appunto come dicevo nel prologo essendo un interattivo dovete prendere solo quello che risuona con voi con la vostra situazione. Io inizio subito con la prima variante appunto per tutti coloro che hanno scelto la chiave con il quadrifoglio. Vediamo innanzitutto a chi è rivolta questa variante, cioè la variante numero uno, vediamo chi si riconosce anzi in questa variante. Allora andiamo un po' a vedere chi si riconosce in questa variante, in questa descrizione. Qua abbiamo un legame animico, un legame di spirito, un legame di anime fra due persone. Poi abbiamo qualcuno che diciamo è molto indaffarato, qualcuno che ha una vita frenetica o qualcuno che si sta allontanando o vorrebbe scappare da una situazione che diciamo non gli va più bene. Poi cosa abbiamo? Parliamo di persona narcisista, parliamo di una persona che sta più attenta al suo benessere, sta più attenta a quello che fa bene a lui o a lei e meno a quello degli altri. Abbiamo una situazione dove due parti non si riescono ad incontrare perché ci sono degli ostacoli, ci sono degli ostacoli che possono essere dettati dal carattere di uno o dell'altro oppure dalla situazione di uno o dell'altro e ovviamente qua ci sono due parti che non riescono a trovare un... non riescono a trasformare questa situazione in questa, anche se fondamentalmente si sentono legati l'uno all'altro. Andiamo avanti. Qualcuno che sta aspettando ma sta aspettando con una determinazione perché sa di essere una persona abbastanza avvenente e di conseguenza sta aspettando che arrivi qualcuno o che qualcosa si possa modificare o trasformare. Vediamo cos'altro abbiamo. Vedete qualcosa che viene tenuto nascosto, qualcosa che non viene celato alla luce del giorno. Magari una relazione segreta. Una delle due parti ha in mano il potere della situazione, ha in mano diciamo tutto ciò che deve essere fatto, gestito, viene gestita, viene diciamo contrassegnata dal come dire, dalla volontà di una delle due parti, al di là che sia uomo o che sia donna. Vedete di nuovo qualcosa che viene tenuto nascosto, qualcosa che viene celato magari ai vostri occhi. Una passione, una passione che in questo momento non viene appunto messa alla luce del giorno con indifferenza. Vedete qui la carta di nonchalance, di indifferenza completa ma sotto c'è qualcosa appunto di più importante. Andiamo a vedere con quest'altro mio mazzo di carte di che pregi o che difetti o di che cosa ha bisogno la situazione che state vivendo. Vediamo un po' di che cosa ha bisogno o di che cosa non ha bisogno. Magari state diciamo affrontando una persona un pochettino sfrontata o magari dovete essere voi un po' sfrontati o c'è bisogno un po' di sfrontatezza in questa in questa situazione. Vediamo un po' ancora per variante 1. Vediamo di che cosa parliamo. Irritabile. Magari questa situazione vi irrita, vi irrita, vi dà fastidio. Vedete siete svogliati, siete svogliati nel riuscire a portare a termine, nel riuscire a capire determinate dinamiche. Avete bisogno di più equilibrio sicuramente. E poi qua mi parla di perseveranza. Avete bisogno di più equilibrio che sicuramente lo andrete ad ottenere con un pochino più di perseveranza ed essere magari un pochino meno emotivi, perché la vostra emotività magari in questo momento non vi fa bene e cerchiamo di essere più attenti. Perché come dicevano i miei oracoli sotto c'è qualcosa che viene tenuto nascosto. Allora adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono le nostre altre carte su questa situazione. Vediamo su cosa voi dovete sapere. Andiamo a vedere di che cosa parliamo. Parliamo di giustizia. Vedete qua? La giustizia. Allora molti di voi potrebbero avere a che fare con questioni legali o magari è una giustizia che voi attendete da tempo. Una giustizia che magari potreste essere voi stessa a doverla attuare oppure che diciamo il destino è pronto a dare giustizia alla vostra persona. La creatività. Cercate di essere più creativi, di fare domande, di essere curiosi anche. Vediamo un po' i nemici. Qua c'è qualcuno appunto che sta celando quello che è la verità. Mi sta tenendo nascosta una verità e penso che diciamo sia molto creativo nel celare questa verità. Cioè si fa vedere in un modo ma nella realtà non è così. Ecco perché mi viene la carta della creatività. Il messaggio. Qua c'è qualcuno che vi sta per mandare un messaggio e vi sta per far capire che le cose non sono per come appaiono. Cosa abbiamo? Il dispiacere. Questa notizia vi potrebbe far avere dei dispiaceri però io penso sempre che è meglio avere una verità che fa male che una bugia che fa star bene. E poi abbiamo la conquista. Vedete dopo il dispiacere la conquista. Perciò è sicuramente una situazione che voi tenderete a superare. A fondo mazzo la bellezza. Vedete sicuramente riuscirete a superare alla grande quello che è questo momento un pochettino un pochino difficile per voi però vi posso assicurare che quando diciamo appare la bellezza è perché tutto poi sarà visto sotto un altro occhio e tutto diciamo tornerà a vostro favore. Ok queste altre le abbiamo anche fatte vedere e adesso vediamo di parlare anche di sentimenti. Vediamo a livello sentimentale che cosa ci dicono le carte. Vediamo a livello sentimentale per variante numero uno. Vediamo che cosa ci vogliono dire. Nuovo amore. Vedete? Mi parla di dispiacere, mi parla di conquista, mi parla di bellezza e mi parla di nuovo amore per voi o di situazione nuova perché qua parliamo sì di sentimenti ma per chi non ha in ballo i sentimenti parliamo di una situazione nuova. Lasciate aiutare dagli angeli. Fate in modo che i vostri angeli siano pronti a darvi una mano. Esprimere l'amore cioè esprimete tutto quello che avete all'interno della vostra persona e vi stanno dicendo che la situazione che si andrà a creare non soltanto sarà una situazione nuova ma sarà una situazione sincera e vera. Come se parliamo di sentimenti sarà un amore sincero. Però vi dovete liberare appunto da questo passato che vi sta facendo soffrire. Oltretutto con una pausa di riflessione. Nel momento in cui voi sarete in pausa di riflessione, nel momento in cui voi diciamo lascerete andare il passato e vorrete stare un attimo da soli a capire qual è il vostro momento sicuramente arriverà qualcosa di nuovo per voi. Vediamo cosa ci dicono gli angeli guaritori per variante numero uno. Per concludere questa variante vediamo un po'. Andiamo a vedere dipendenza. Cercate di scrollarvi di dosso quella che è questa dipendenza, questa dipendenza dalla sofferenza di questa notizia che diciamo la notizia di avere attorno delle persone non sincere non sempre fa piacere. Vediamo ancora che cosa abbiamo. Abbiamo la speranza che non manca mai. La speranza che tutto si può appunto sistemare. Nuove idee. Vedete nuove idee, nuovo amore, nuova situazione in arrivo per voi. E poi vediamo sei protetto. Gli angeli che parlavamo prima degli angeli. Chiedi aiuto ai tuoi angeli perché sei una persona protetta da loro. ospitalità. Cercate di far arrivare nella vostra vita l'aiuto degli angeli di rendervi ospitali a quelli che sono i loro messaggi e il coraggio, il coraggio di andare avanti anche con le difficoltà che purtroppo incommono sempre nella nostra vita. Bene variante numero uno. Spero che ti sei ritrovato in questa descrizione e in quello che è la tua situazione. Non preoccuparti anche se ci sono dei momenti negativi. Tutto si andrà a sistemare. Io adesso passo a variante numero due. Eccoci qua con variante numero due per chi ha scelto la chiave con la farfalla. La metto qui in modo che la possiate vedere. Vediamo un po'. Vediamo a chi è rivolta la variante numero due. Vediamo un po' che situazione abbiamo per variante numero due. Un legame. Parliamo di un legame per variante numero due. Un legame che può essere fra due persone che si amano. Un legame che può essere fra due persone che non si possono amare alla luce del sole. Potrebbe anche essere un legame di amicizia, un legame fraterno o un legame familiare. Oppure semplicemente un legame con una persona con cui lavorate ma che vi trovate molto ma molto bene. Una delle due parti in questo momento si sta tormentando. Si sta tormentando perché non riesce ad esprimere o non riesce a trovare una calma tra le proprie emozioni. Vedete si lascia trasportare da quelle che sono le proprie emozioni, da quello che è il momento. Non riesce a trovare, vedete, sta cercando, sta aspettando ma non riesce a trovare un po' di pace perché appunto si fa trasportare di qua e di là da quello che diciamo è l'emozione del momento. Vedete qualcuno che si tormenta perché vedete il legame però la testa china della donna ci fa pensare che in questo momento sta riflettendo su un qualcosa. Vedete sta riflettendo sull'andare e il ritornare dell'altra parte. C'è una delle due parti che anche se c'è un legame come dicevo tende ad andare via e a ritornare. Vedete come le carte si chiamano appunto? O è una persona che viaggia molto per lavoro, viaggia molto per hobby però è una persona che si allontana e poi ritorna e questo gli dà da pensare. vedete è come se pensa che un domani tutto potrebbe potrebbe finire in uno di questi spostamenti ed ecco che lo guarda con aria furtiva, lo guarda con aria diciamo titubante, pensierosa e anche un po' non sicura ecco perché magari pensa che questo legame potrebbe finire o magari potrebbe anche essere che si pensa che ci sia una terza parte. Fondo mazzo vedete qua il sospetto, l'indisposizione, il sospetto di quello che accade. Andiamo a vedere con il mio altro oracolo che cosa ci dice. Vediamo un po' per variante numero due, pregi, difetti o situazioni. Intransigente, qui c'è qualcuno che non transige, non dà spazio, non lascia libero ecco perché magari questi momenti di fuga perché uno dei due tiene legato forse l'altro troppo stretto. Umile, c'è bisogno di più umiltà, c'è bisogno di più spazio, di non essere troppo intransigenti ma di lasciare un po' andare. Mi parla di vanità o di persone vanitose. Mi parla di sensibilità o di persone sensibili all'intransigenza magari. Mi parla appunto di fedeltà, di essere fedeli, di avere più fiducia anche nella persona che c'è accanto e mi parla di sogni o di persone sognatori o di persone sognatrici scusate. O qua c'è bisogno un pochettino di far spaziare la fantasia e di audacia. Magari se c'è una delle due parti che ha bisogno di dire qualcosa è meglio che la tiri fuori senza tenersela dentro. Adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono queste carte in base alla situazione che stiamo vivendo. Vediamo un po'. Per variante numero due vediamo legge del riflesso. Vedete qui qualcuno che si specchia nel proprio riflesso. Questa la dobbiamo andare a leggere. Vediamo la legge del riflesso. Eccola qua. Vediamo cosa ci dice. La legge del riflesso è un potente feedback, una bussola preziosa, una fotografia accurata di ciò che hai scritto nei tuoi registri akashici e che di volta in volta scrivi attraverso i decreti che emani. Hai estratto questa carta perché la domanda che devi porti è perché hai programmato tali prove? Cosa volevo far apprendere alla mia anima? Mentre cerchi di capire e ricordare sappi che i maestri ascesi ti mandano la legge del riflesso per farti vedere attraverso la tua vita esteriore quella che c'è dentro di te. Appunto quello che dicevamo prima c'è qualcuno che deve fare un po' un esame di quello che è il suo comportamento nei confronti dell'altro. Hai scelto questa carta e quindi non sarà un caso che ti capiteranno delle scocciature o determinate situazioni che ti danno fastidio o ti colpiscono particolarmente perché ti vengono mandate apposta. Infatti quello che ti dà più fastidio negli altri spesso è presente anche in te. Parliamo di fedeltà, di fiducia in questo caso. Ma i maestri ascesi ti raccomandano di prestare molta attenzione perché contemporaneamente ti invieranno anche persone e situazioni piacevoli che contengono qualità e pregi che noterai perché anche tu le possiedi. Perciò quello che tu rifletti verso l'altra persona ce l'hai anche dentro tu. Messaggi supplementari. Mettiti a testa in giù e osserva il mondo da un'altra prospettiva cioè dalla prospettiva dell'altra persona. Non essere troppo critico cioè non troppo intransigente. Fai una lezione di antigravity. Acquista uno specchietto da borsetta, pratica il mirroring, chiediti se con la tua attitudine ti stai facilitando o complicando la vita. Perciò cerchiamo di avere una maggiore attenzione anche nei confronti dell'altra persona. Vediamo cosa ci dicono le normande per variante numero 2. Vediamo. Vedete? Parliamo di un sospetto. Parliamo di un sospetto di un tradimento o parliamo anche di un rinnovamento nel modo di vedere le cose, nel modo di comportarci nei confronti di altre persone. Parliamo di un taglio. Qualcuno potrebbe tagliarla questa situazione. Qualcuno potrebbe non volere più avere niente a che fare con questa situazione, con questo legame. Magari tagliare appunto questo legame che purtroppo è diventato troppo soffogante. Perché? Perché non si riesce più a vivere, non si riesce più a gestire le amicizie, non si riesce più andare nei posti dove si andavano prima, non si riesce più a incontrare persone e avere una vita sociale. Perché qui ci sono dei sogni che non possono essere realizzati, ci sono dei sogni che vengono infranti, come delle illusioni. Si ha l'illusione che tutto vada bene, invece purtroppo i sogni vengono infranti e non si riesce più a fare una vita serena. Una vita serena perché appunto manca la fedeltà, manca l'amore, manca l'amicizia, manca appunto il potersi fidare e qua mi vieni fuori tu. Perché se tu sei una donna questa stesa è rivolta a te, se tu sei un uomo questa stesa è rivolta alla donna che è accanto oppure alla persona che stai pensando. Come fondomazzo vedete abbiamo discussioni e litigi. Litigi continui, discussione continua e non si riesce a trovare un punto d'incontro perché appunto la fedeltà è un qualcosa che in questo momento viene a mancare e di conseguenza si sta appunto pensando di tagliare un determinato rapporto. Cos'altro andiamo a vedere? Vediamo un po' con appunto le mie bellissime carte. Vediamo che cosa ci dicono. Diamo una mescolata e vediamo di che cosa parliamo appunto. Vediamo un po'. Parliamo di sfida. Vedete? L'otta confronto è contrasto. Vedete? Questa si rifà benissimo alla carta numero 11 delle normande. Vedete? Le discussioni, la lotta. Qua c'è una continua lotta nella vostra situazione perché voi non riuscite a vedere quello che c'è dopo. Dopo ci sono le amiche, i pettegolezzi e la malignità. Magari qualcuno vi ha detto una battuta e voi subito l'avete presa come un qualcosa di vero e che vi viene nascosto dalla persona che avete accanto. Magari avete semplicemente frainteso. E qui mi viene la forza. La forza nel senso che voi, diciamo, vi imponete. Vi imponete su questa persona, imponete il vostro modo di fare, ma vi posso dire che questa persona si sta un po' stancando. Vedete? La malinconia, la tristezza, la malinconia di una persona che non riesce più a vivere, non riesce più a gestire le amicizie, non riesce più a incontrarle. Vedete? Qua mi parla di presunzione, di orgoglio. Qua c'è una persona che sta pensando appunto di tagliare completamente i ponti. Vedete? Avversità. Quello che per voi era una situazione bellissima sta diventando un nemico. C'è del male che però state facendo proprio voi alla coppia. Vedete? Se non c'è questo, se non ci sono le solide radici in questo rapporto, in questa situazione, andrà sicuramente a finire, perché nessuno vuole vivere costretto da una determinata persona a non poter fare più quello che vuole, a non poter vivere una vita che vuole, a non poter incontrare le persone di cui ha bisogno. Bene, variante numero due. Spero che i miei consigli ti possano essere utili. Mi raccomando, più fiducia e meno intransigenza. L'intransigenza porterà appunto allo sfaldamento di quello che è questo legame che sembra solido, ma in fondo in fondo non lo è. Perché vedete? Non c'è un legame, cioè sembra solido, ma in fondo in fondo c'è qualcosa appunto che non va più bene. Bene, seconda variante. Io ti ringrazio per aver visto il video. Come sempre ti aspetto nei commenti, fammi sapere se ti piace questa tipologia di video e noi ci vediamo alla prossima.